Il santo del giorno è San Francesco Saverio San Francesco Saverio, sacerdote della compagnia di Gesù era così desideroso di comunicare la buona novella in tutto il mondo che viaggiò tantissimo e evangelizzò in India, in molte isole in Giappone convertì tantissime persone e infine stanco e colmo dei suoi giorni morì in Cina Ecco lui era uno che la globalizzazione aveva capita prima di tutti Adesso però c'è l'ora Mipsum per capire sempre qualcosa di nuovo anche oggi Noi torniamo subito dopo con di quando e come sempre vi auguriamo buona televisione